Oggi un brindisi diffuso in tutta la Tamarca Trevigiana per una ripartenza concreta, qua siamo con tutte le associazioni del Pievigino. Certo, una festa grande da condividere insieme qui a Pieve di Soligo che è il cuore dell'UNESCO e la perla del quartier del Piave. È una giornata stupenda, il sole ci ha graziato e ci assiste e siamo davvero qui per sostenere tutte le associazioni che promuovono il nostro territorio e i loro prodotti. E quindi buona festa a tutti e festa grande. Queste sono le iniziative che ci piacciono, è bello di tornare a vedere i volontari che lavorano sul territorio, è bello di vedere i nostri proloco che tornano a vedere il sole e a respirare l'aria fresca di queste giornate. Anzi, non tanto fresca perché oggi è una giornata veramente estiva, la prima giornata d'estate, è bello, è bello vedere questa ripartenza, riempie il cuore. E oggi ho voluto chiudere anche questo tour delle varie piazze del nostro quartier del Piave, proprio qui a casa, a Pieve. Grazie ai volontari anche della nostra proloco per quello che stanno facendo questa mattina. Le proloco protagoniste di questa ripartenza su tutto il territorio? Sì, sì, le proloco sono protagoniste, più che le proloco è l'Umbri. Nonostante che Pioviso Ligo non faccia parte del circuito delle mostre del Primavera del Prosecco, questa iniziativa promossa dall'Umbri abbiamo aderito anche noi come Consorzio, con entusiasmo perché la ripartenza era importante, far vedere che le proloco sono attive, sono presenti e sono unite nelle loro scelte. Grazie a tutti. Noi siamo oggi dentro questa vicenda di festa grande, è una cosa bellissima, metti tutti assieme. Noi ci saremo con l'apertura delle chiese, con la testimonianza di una grande attenzione al nostro patrimonio artistico, che è qualcosa di straordinario, un punto di eccellenza, credo in rete con tutti gli altri soggetti del territorio che oggi, non a caso, sono insieme per questa bellissima festa grande. Bisogna ripartire la grande perché se no ci fermiamo guai. Bisogna partire la grande, speriamo, oggi è una giornata di sole splendida, quindi sia di buon auspicio per il prosievo e andare avanti sempre a tutta. Siamo disponibili per la comunità a portare avanti l'unione fa la forza e per aprire l'estate per i cittadini a fare festa, a uscire in piazza e a essere felici. E questa è una vera festa grande. Ma senza altro che grande, grande sì, però noi già pensiamo alla nostra festa, quella dello spiedo gigante, che sarà fatto, andiamo già mercoledì a fare un consiglio per buttare giù un programma. Quando si parla di Pieve di Sueligo si parla di spiedo gigante, ma soprattutto di Accademia dello Spiedo d'Alta Marca. Siamo qua, benissimo. Io sono la vicepresidente dell'Accademia da tanti tanti anni, siamo sempre propositivi per fare cose, corsi e ricorsi e manifestazioni. Bisogna ripartire, bisogna ripartire assolutamente. Stiamo già ripartendo. Ecco, vede? I sostenitori? Quindi lanciamo un bel messaggio, venite a Pieve di Sueligo, venite nel quartiere Piave che qua si mangia bene. Ma benissimo, guarda, già oggi mangiamo benissimo e continuiamo a farlo.